E' uscito miracolosamente il leso dalla sua gippa cartocciata un uomo di 40 anni di vasto che questa mattina sulla statale 16 all'altezza di Petacciato ha perso il controllo del mezzo. Ha sbandato, ha invaso la carreggiata opposta, ha sfondato il garrele ed è volato giù da un ponticello che passa sopra il tecchio finendo la corsa vicino alla sponda del torrente. Un volo di almeno 7 metri con l'auto che si è ribaltata più volte. Visibilmente sconvolto, il quarantenne è stato portato in pronto soccorso al Santimotio da un'ambulanza della Misericordia solo per accertamenti. Sul posto anche la polizia stradale di Termoli, qualche rallentamento al traffico. E finalmente arrivano buone notizie dalla casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo dove si trova ricoverato in rianimazione Alberto Stoduto, il fratellino di Denise morta il giorno di Pasquetta in un incidente sulla strada verso il Gargano. Il bambino, 8 anni, due giorni fa è stato sottoposto a un nuovo intervento. È stato finora operato 11 volte da quel terribile giorno. È ancora in prognosi riservata ma è vigile. Ha iniziato a rispondere agli stimoli e scambia qualche parola con quella mamma che non lo molla un istante e che cerca la sua forza e il suo coraggio nella piccola Denise diventata angelo custode del fratellino. Alberto non sa ancora che Denise non c'è più. La cerca in continuazione e non vede l'ora di tornare a casa per stare con lei. Su Facebook, rivolta alla figlia, la mamma scrive Tienici forte per mano, aiutaci ad alleviare questo dolore e a trovare le risposte giuste alle domande di Alberto. Intanto a fare il tifo per Alberto ci sono soprattutto i suoi compagni di scuola che ogni giorno lo riempiono di affetto e di messaggi vocali sul gruppo WhatsApp di classe a cui anche lui ha risposto. Anche papà Riccardo sta meglio. È uscito dalla rianimazione ed è stato trasferito nel reparto di ortopedia.